Devo dire che ormai questa è la seconda interrogazione che presento in Consiglio regionale dove chiedo chiarimenti rispetto al fatto che durante la prima fase dell'emergenza il reparto era stato chiuso per realizzare spazio per la terapia semi-intensiva ed intensiva. Ovviamente io ho sempre pensato che questa fosse una chiusura temporanea, invece fino ad oggi non ho avuto una risposta chiara da questo punto di vista. Quindi io presento per la seconda volta un'ulteriore interrogazione che dovrebbe andare in aula martedì, dove ribadisco il fatto che sia il reparto di pediatria, ostetrice e ginecologia è importante che venga ripristinato nella città di Pedero. Prima di tutto perché penso che sia l'unica città in Italia, capoluogo di provincia, che non ha questo tipo di reparto all'interno del proprio ospedale. Dall'altra parte è importante dal punto di vista della sicurezza, perché attualmente questi reparti sono stati spostati all'interno dell'ospedale di Fano. ospedale di Fano che però non è in grado di rispondere in caso di emergenze a particolari necessità, quindi non ha come dire tutta una serie di reparti a fianco che consentono di poter trattare le persone più gravi o le mamme o i bambini e quindi da qui l'importanza di ripristinarlo. Se questo non è possibile da subito, perché ovviamente l'emergenza Covid ancora non è terminata, io ovviamente chiedo di ripristinarlo una volta terminata l'emergenza Covid, chiedo che da subito venga riattivato un punto di primo soccorso pediatrico. Attualmente ricordo che un bambino non può essere visitato nel pronto soccorso di Pedero perché non c'è un pediatra e si è costretti a doversi recare a Fano. Nel momento in cui a Fano il bambino dovesse risultare particolarmente grave deve essere riportato a Pedero. Quindi penso che sia una situazione insostenibile che mette anche a rischio, in alcuni casi mi auguro che non avvenga in questi mesi, ma che potrebbe mettere a rischio anche la sicurezza del bambino stesso. Altra categoria, altre problematiche, quelle di diabetologia, come è la situazione in tal senso? Beh, in questo senso devo dire che l'azienda Marche Nord ha aperto ormai diversi mesi fa alcuni nuovi reparti, alcune nuove stanze a muraglia per far fronte al problema delle persone diabetiche. Però sono spazi che non sono sicuramente sufficienti. Ricordo che solo nel comune di Pedero fanno riferimento circa 8.000 persone diabetiche e avevo chiesto di attivare un bando per verificare ulteriori spazi e devo dire che Azure ha attivato proprio qualche settimana fa un bando che è la ricerca di uno spazio di circa 250-300 metri quadri che possa, come dire, ospitare e quindi creare tutte quelle condizioni per poter, come dire, affrontare e quindi sostenere e visitare le persone diabetiche. Oltre al problema degli spazi, quello è un reparto che ha problemi anche dal punto di vista di personale. Quindi mi riferisco alla carenza dei medici, degli infermieri, del dietologo, dello psicologo e quindi nell'interrogazione sollecito anche la regione ad attivarsi quanto prima ovviamente compatibilmente alle possibilità ma di fare in modo di poter assumere ulteriori persone per riuscire a dare le risposte al meglio alle persone. Da una parte gli spazi è partito al bando ma dall'altra parte anche aumentare quelle che è il personale a disposizione.